Morire ora è mato? Senza muleti? Ma è già successo? Non è successo? Ah, attualmente sono in NG+, devo fare i 4 re prima di sbloccare il secondo finale Devo riprendere il 2, però ho deciso di concentrarmi su Hollow Knight perché almeno lo chiudo Ho finito Poi lo riprendo, comunque volevo un attimo differenziare anche la live Volevo essere concentrato almeno per qualcosa Sì sì sì, il 2 ormai lo finisco Oddio No, grazie No, grazie Tanto c'hai il PC che te ne fai No, grazie Però non ti serve No, grazie Ah, ok, corto Che è Death Stranding? Madonna, mi schianto di caldo stasera Non tira un filo d'aria Non so, minimamente che sia Ah, allora va bene, mi è piaciuto Metal Gear Non mi prese l'altro Non mi prese l'uno figurati Sono sempre un po' in contropendenza, eh, perché tipo a me il The Witcher ad esempio Dopo un'ora che giocavo mi sono stupato, l'ho chiuso e non l'ho più riaperto Forse due ore Cioè quando a tutti piaceva Metal Gear a me piaceva Splinter, serio, per cui Non mi prese l'ho più riaperto Non mi prese quello della mia Non mi prese l'ho più riaperto Non mi prese l'ho più riaperto infatti mi sono annoiato subito quando mi hanno detto devi andare da reti devi vestire bene lì mi è preso lo sconforto ho detto cavolo io a skyrim andavo vestito con ancora il sangue di drago addosso dopo avermi uccisi tipo una decina ma Life is Strange l'hai mai giocato? perché sono scemo? che scemo? ciao 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 c'è Non so cosa sia Twin Peaks Parli strano Twin Peaks conosco solo i monti Sopra San Francisco e volevo andare a visitare Ma non c'è stato bene Forse quest'anno ci riuscirò C'è monti, colline, via Ah, sono quelli, ok Però mi fermo al fatto che sono le collinette lì Solo perché sono stato là e cercavo cose da visitare Pensate che ho avuto un po' di nuova Quanto mi sta sul culo te, guarda Stupido guerriero delle anime Sì, guarda oi ma me l'hai sparato in faccia ah ok inti le fare stagioni dopo 25 anni oi 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 belle patta che tristezza ma ci dà sempre attraverso e quindi in giro grazie spazio di manovra grazie poi non sapevo chi era quello ma ma Grazie a tutti. Ci muoio. Grande genio. Meno male. Cosa ci ho fatta? Che sudata. Già sto... ...un brando di calma. Beh, un pochino anch'io. Ma alla fine voglio dire, avevo appena iniziato il panter, non si potrebbe rifare. L'ho detto, sarebbe la prima volta che muoio un troidor. Però la calma è la virtù dei forni. Senti qui. Le massime. No, ma... Ma che ho fatto? No, non era quello che intendevo io. Con fai una magia. Però va bene. Esatto, sono i zottili. Con la mia sterminatrice. Olè. Sì. Fff. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Oh, quante volte lo fai? Ho capito, scusa. Ecco, una, due, prende, sì. C'è un colp. Un colpo. Curiamoci. È importante. È ma serio? È un pozzo. oh ma a te se non mi vieni un po' addosso non sei un tento eh cazzo dio pedana di me oh non si possono dire parolacci devo mettere stream per a tutti oh andato bello sono anche full vita contro le mantidi no non lo so è un'idea mia tanto senti i bambini ne sanno più di te non lo so no sono cascazoni le spina come uno schermo bro no 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 ma che su chance no via dai non c'ho più voglia di combattere quanto vi vuoi è stato un po impreciso alla fine ma perchè me l'ho rotto via no mamma ha colpito si si sicuro solo che lo prenderò per switch e quindi non so se in quel momento riuscirò a streamarlo perchè dovrei comprarmi una scheda d'acquisizione perchè non ho né un pc potente per streamarlo quindi il bot vedremo poi fammi sapere se c'è qualcosa che funziona il problema è che io ho un mech e basta il pc di lavoro non è fatto per questa roba qui quindi mi pareva mi colpisse con il suo cavolo di contact damage hai rotto te con sto contact damage del cavolo guardate mi pareva mi pareva beh si il gatto lo sto molto eh come lo basta ma che danni che a caso a caso va, va, vai, stai a lavoro ecco che ti pareva vabbè colpisci mi anche qui, eh, mai non è morta, bellissimo è una scena esatta sicuro ti fonderà il pc, ti installerà i peggio che farà finire il quinto pantheon offline e basta ho un odio viscerale per te con questa culetta del cavolo ahi, te parego ah, sta bene non avevo dupi ma dove l'hai presa, sconsa? non avevo dupi ma dove l'hai presa non avevo dupi non avevo dupi c'è scritto ti va bene se ti installiamo gli spyware per spiare trump dall'italia? ok l'hai comprata e quindi hai detto si e sei un nemico dell'america adesso pensa a te oi oi tua madre è una grande aspide sappilo faccio un po' di concentrazione eccola l'ho ritrovata se funziona ma casomai mandami il link così gli do un'occhiata per vedere anche le specifiche ma smetti di spostarti fatti colpire e basta mamma mia quanto sei per maloso ma che faccio? ma che mi curi? non serve curarsi contro me sono scemo ma 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 No! Sì! Ma perché fai studi, lavori? Stai in Italia di tutto questo tipo di nasta che fai? Ah Avresti studiato per? Ah, ok Hai costruito l'HR No, l'HR Ma sei svizio o italiano? Ma sei svizio o italiano? Ma che ho fatto? Perché non ho da scatto? No, io non lo so Dovessi essere pure giapponese Non so neanche dove sei, quindi... Li odio, poverini Sono così neutrali Cani Beh, ci sono anche i cani svizzeri, credo Quindi... Alla fine voglio dire c'è il pastore mare in mano Perché non potrebbe esserci un cane svizzeri No 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 Sì sì anche per me è quello stesso discorso quindi ti capisco benissimo Ingegneria informatica non mi aveva ispirato E quando poi vedi gente che ha fatto ingegneria informatica Ha fatto lo stesso lavoro Appena cercare il tuo stesso lavoro Dici ok Non ho fatto male allora Ah infatti il liceo eh Ma io non fico il tasto di dash Ma dove ti ha rincastrato Eh sì guarda quanti danni stasera Vieni a me Umo Vieni a me Umo In effetti in quegli anni andava tanto il liceo scientifico Ho tanti amici che lo facevano Ho tanti amici che lo facevano Ovvio mi avrebbe preso Era ovissimo Ma perché mi ha preso Oh piano Ma che è Che è sta cos'è Che è sta cos'è Ora un po' di più contro il nosco stavolta Mi devo curare Ecco se il gioco inizia così puoi No va bene Dimmi Xbox stasera non c'hai voglia di giocare con me Ma che gioco puoi giocare Ma che gioco puoi giocare Dimmi Sì vada bello Daì E seguità E seguità E seguità E seguità E scheru Unito Eh E Eh 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 guarda cosa mi ha preso quel cavolo di fantasy io faccio il programmatore web, mobile, desktop, mac quello che mi ricordo di programmare il programma ho fatto una strada completamente diversa dal mio babbo che al bar fa il pasticcere io ho deciso di fare il programmatore grazie 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 A presto! però sabrina come puoi vedere siamo ancora qui quindi non è andata benissimo prima andare peggio eric era testimone ma sono morto un po a casaccio proprio tipo a 1 2 colpi dalla fine poi mi guarderò replay per vedere quanti colpi mi mancava secondo me ne mancava tipo uno ma come ho fatto qui quello è un po stagena qui che si può vedere con tutte queste cose sono schermopperò oh guarda lì giusto per cambiare perché visto che lo splendore l'ho provato quattro volte è stato un disastro allora ho deciso di rifare il pantheon che stava andando meglio di prima e quindi se finisco questo finirò Hollow Knight nella Hall of Gods anche se non era quello che volevo credo che fosse l'ultima cosa da fare questa ma ci sto perdendo veramente la testa, via troppo il splendore, non ci voglio, sta così male no 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 vabbè tanto c'è i VOD poi ti salgo anche le cose importanti anche se purtroppo alcune cose le ho fatte off live quindi ma eh si no no grazie per farmi le cose dove non le posso schivare oggi l'XBOX cioè saranno l'XBOX ce l'ha con me lo giuro mi odia ecco appunto se mi può fare uno spregio me lo fa 5 danni da questo 6 danni da questo scemice ma non esiste in tutta la vita guarda 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 l'ho colpito e mi ha fatto danno lo stesso ovviamente il fantasmino è rimasto su brava guarda 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 guard grazie per avermi fatto colpire oh oh vediamo di non morirci come eric ma prima ho detto una boiata perché non avevo preso danni quanto che non ho l'amuleto vai che ci siamo così poi stavolta mi ha preso a modo oh basta chi c'è ora? scusate se sto per il microfono sto sudando veramente grazie Wakunda costino Wakanda libero stavolta stavolta ma doma 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 D ok si è andato giù finalmente ho dello splendore ah no quello non può esistere sarebbe un infame ah ok siamo nel rush finale contro Marcotte Marcotte ma papà nadò che sei da molhe di rosa ricorni per non è il gioco oh oddio scusate zanzara ha vinto lei perché mi ha fatto colpire il microfono ah si è vero è vero qua fanno da 8 ma è un disastro io non la volevo bretta però la maschera la dovevo prendere per forza infatti poi sono stato contento quando zote me l'ha rubata io volevo hornet per me in realtà zote è l'amante di isella perché cornifer è sempre via qualcuno ci deve stare dietro ha delle necessità cornifer cornuto vedi la sale che è vero è forte cornflakes ma come cornflakes il prefisso è lo stesso ma come cornflakes ma come cornflakes ma come cornflakes le mantidi sono impegnative sono tre anzi scherza mia ma dai ma non mi puoi sponare la roba con le maraniti le ho letto mantidi le maraniti spero per lui di no insomma stanno denti sì tua sorella marco te l'hanno detto sì te l'ho detto eric di sicuro ecco ma sotto i piedi sotto i piedi sotto i piedi oh mamma marco te ecco che salvatagione ragazzi qui mi prende e invece ok me lo posso curare nooo 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 eh ci sta eh da quant'è infame no no da quanto è no no da quanto è iniziamo qua l'ora c'è ma serio no da quanto è iniziamo a riette eh no da quanto è no da quanto è no da quanto è basta ma qui invece non dice zutta dice dirà zote immagino o ma l'australiano tanto gli australiani pronunciano le parole al caso quindi guarda ho pensato che se stavo colpito non ci ho creduto ma ha un problema sul contrario perché non mi prende i tasti guarda guarda io lo pigio il tasto salto continua a succedere ma poi va a cambiare pad perché mi sembra che sia un problema frequente è 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 bello si cincione aspetta ok ok ah bellissimo è Grazie a tutti. Sero. Non lo aspettavo alla fine. Come lo facessi? Stavo indietreggiando un po' troppo. Quindi tu indietreggiare, accidente. A te? Ciccione. Faccio bene i punti? Sì. Sero non credo sia un po' bene. Oh, magari mi spaggia. Controlla la wifi se ce l'avete portato a dimora. Se non si guarda dopo. Sì. 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 Sì, sì, sì. Grazie. Grazie. Oh, so distrusto. Grazie. Grazie. Che ha gli scuri, Marco? Solo per quello. Se non avessi lo scudo da girargli intorno sarebbe solo il fatto di saltargli in testa. Allora faccio due secondi di pausa e torno. Non stacco, torno subito. Grazie. 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 Ho cambiato parte. Non ricordo che piani fosse questo. Forza si incastrava gli analogici, ma altanto non vi uso. Sì, sto schiantando di caldo, guarda, con queste cuffioni addosso, ci muoio, ma ho delle cuffie piccole che però, a quanto ho capito, disturbano il microfono. Aspetto l'ok di Eric e si riparte. Chiudiamo la finestra, vai, così posso metterla all'alto. Tanto non tira un filo di vento, quindi... Vai, ci siamo. Speriamo che questo joystick funzioni meglio. Si sente bene l'audio? Devo sistemare qualcosa? A volte è un po' lontano. Se perdo è colpa del pad, eh? L'ho cambiato. Perché l'altro sul salto a volte era un po' fallace. Sperando che questo non lo sia. Sperando che questo, è un po' fallare. Sperando che questo, è un po' fallare. Sperando che questo, è un po' fallo. Ma va il letto Ecco 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 Olè Ho cambiato davvero pad Questo lo cambiai perché aveva un difetto Però non mi sembra che sia Inerente a Odonite Prima l'ho fatto Se perdevo contro il recettacolo Era colpa del pad Qui è colpa mia contro lo splendore Mi son capo contro di lui Non mi sembra Non mi sembra Grazie a tutti. Eccolo, non ho il corpo saldo, deve essere più attento. Questa è la volta buona. Che dici, eh? Anche prima era andata così. Anzi, forse prima era andata meglio. Pareva essere arrivato a noi, fin qua. Ecco. Qua c'è ste cacate. Non c'è anima. Quora, quora, quora. Sumaniamo full beta. Oh, che pedaccio. Quora, quora. Eccola il danno extra Eccolo 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 Dai Beh Eccolo 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 Bene Eccolo 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 Beh Devo Devo fare un po' di screenshot Prima Passo di su Anche se so dove devo andare Ok Ok Vedi se te lo fai hitless questo Questi cosi dovrebbero brillare un po' di più Se invece li fai tutte e quattro insieme brillano come Come è normale Eh sì gli screenshot perché nei gruppi facebook mi piace aggiornare su quello che faccio Zitto siri non ho detto niente per te Quindi un altro screenshot Questo è quello che si apre Hitless Ah bellino È il momento Entriamo Prima di Adesso non so se poi ci potrò più tornare Adesso non c'è niente se non La maschera Oh qui c'è qualcosa Niente Aspetta Aspetta Esamino Eh sì infatti Acquisisci Vabbè ma che acquisisci tanto c'ho Allora